L'arsenale. Un enorme complesso portuale e militare di cantieri e officine, protetto da alte mura, che si estende su 48 ettari di territorio, al margine nord-orientale della città. L'arsenale fu il cuore dell'industria navale veneziana, ma in questo porto enorme approdavano anche tutte quelle imbarcazioni che facevano ritorno da viaggi lontanissimi in terre sconosciute. Grazie a tutti.